buona giornata amici benvenuti bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 25 marzo 2023 vediamo subito chi si festeggia oggi oggi non è un santo ma è un avvenimento un evento ed è soprattutto l'annunciazione del signore da parte dell'arcangelo gabriele un evento che ha segnato veramente la storia dell'umanità un evento che è venuto in un luogo a noi vicino ovvero nella casa della di nazareth nella casa abitata da maria al tempo in cui era ancora un adolescente quindi un momento importante che poi precede la pasqua con il significato che ha questa questa festa per tutta la cristianità dunque l'annunciazione del signore vediamo anche le previsioni del tempo tempo buono ancora oggi la primavera si fa sentire anche la temperatura insomma è veramente cambiata rispetto ai giorni scorsi tempo assolato su tutte le marche con 20 sostenuti di garbino al pomeriggio e valori massimi generalmente compresi tra i 20 e 23 gradi quindi vedete come le temperature si stanno alzando ieri la massima era sui 21 oggi si superano questi valori fino a 23 le minime sono state di 12 gradi sulle coste i venti spirano da ovest così come nell'entroterra e il mare è leggermente mosso ed ora diamo un'occhiata ai giornali il corriere adriatico il resto del carlino vediamo due articoli che sono insomma uno che precede l'altro ma sono concomitanti sono sussinti integrano voglio dire a vicenda vediamo il primo sul corriere adriatico l'articolo di apertura sulla pagina di fano annuncia questo gestione del verde adesso si cambia dopo sette anni c'è il nuovo regolamento un nuovo regolamento che è stato approvato alla unanimità dobbiamo dire cioè non tutti hanno votato a favore ma le opposizioni si sono astenute e quindi vuol dire insomma che è stata un'astenzione benevola così come la giudica il corriere adriatico gestione del verde adesso si cambia dopo sette anni c'è il nuovo regolamento tanto è durata l'attesa per l'aggiornamento della disciplina a causa anche di contrasti di carattere culturale e politico interni alla maggioranza però adesso grazie un po alla decisione dell'assessore barbara brunori questo regolamento è stato portato a termine ci sono stati discussioni all'interno del confronto all'interno della seduta del consiglio comunale il movimento 5 stelle ha presentato ben 15 emendamenti quasi tutti sono stati bocciati due però sono stati approvati con il primo è stato definito che tutti gli interventi sul verde pubblico devono essere coordinati da un tecnico esperto in materia agronomo forestale finalmente una competenza decisiva il secondo emendamento dice che nelle more dell'approvazione del piano qui stava discutendo l'abbattimento di piante facenti parte di alberature pubbliche l'ufficio comunale competente valuterà l'opportunità di effettuare piantagioni sostitutive anche in altre aree pubbliche e la possibilità di introdurre altre specie ovvero se si abbattono gli alberi da una parte e non si possono ripristinare in quel luogo perché poi l'abbattimento è finalizzato a rendere libera quell'area si devono però piantare altri alberi da un'altra parte magari anche di un'altra specie questo il regolamento nuovo che è stato approvato lo consente comunque l'importante è quello di rimpinguare insomma di persone esperte di persone che hanno una competenza specifica all'organico comunale per farsi insomma che il patrimonio arboreo del comune di Fano che è veramente un valore che è una risorsa possa essere preservato e valorizzato a dovere. L'altra notizia invece è quella con cui apre il resto del Carlino nonostante che sia stato approvato proprio il regolamento del verde per valorizzare il verde gli ambientalisti insorgono perché viene annunciata una strage di alberi in Viale Battisti e Viale Battisti sarà oggetto prossimamente di un intervento di restyling da parte dell'amministrazione comunale il Viale ora è ridotto veramente in condizioni pietose ci sono buche, avvallamenti, bisogna razionalizzare i parcheggi, la pista ciclabile bisogna delinearla così come vuole il regolamento, insomma ci sono diversi interventi da fare e questi interventi prevedono anche l'abbattimento di alberi e la sostituzione di altri alberi però sono alberelli sono prima di tutto il numero minore e poi sono alberelli che faticheranno a crescere insomma per avere lo sviluppo attuale occorrerà aspettare circa 20 anni quindi insomma la situazione non è delle migliori l'associazione dunque lancia l'allarme sono 18 le meglie questa è la tipologia degli alberi esistenti adesso che saranno abbattute e sostituite con 16 piccole piante piccole piante che dovranno crescere e quindi qui le proteste le proteste la proposta di lupus in fabola è di lasciare la sosta sul lato pesaro inalterata rispetto alla situazione attuale ovvero lasciare la sosta così come ci sarebbe lo spazio per ricavare un marciapiede parcheggi a norma e una banchina di mezzo metro ma anche ci sarebbe lo spazio per ricreare un doppio filare di alberi questa è la proposta fatta da lupus in fabola una proposta che è stata respinta dal settore dei lavori pubblici al cui avviso la sosta attraversale della caleggiata intralcerebbe il traffico quando però in tutta Fano questa sosta viene permessa così dice ancora lupus in fabola questo per quanto riguarda quello che questa piccola contraddizione che da una parte si cerca a valorizzare il patrimonio arboreo dall'altra invece viene giudicato e non vengono giudicati giusti i provvedimenti che vengono assunti vediamo l'altra notizia che viene pubblicata a fondo pagina del resto del Carlino il comune estende l'esonero per lo scuola bus il nido e la mensa lo estende a un maggior numero di famiglie famiglie ovviamente che si trovano in situazioni critiche samuele mascarin considerati i tempi per l'amministrazione lo sforzo non è affatto banale sappiamo che samuele mascarin è l'assessore ai servizi educativi dunque il comune estende l'esonero per la riflessione scolastica lo scuola bus e il nido nel prossimo anno scolastico 2023 2024 saranno 300 le famiglie che ne potranno usufruire saranno il doppio di quelle che ne usufruiscono attualmente un ulteriore intervento dichiara l'assessore a favore dei bambini e delle bambine in particolare delle famiglie dunque uno sgravio importante in questi momenti non certo facili per le famiglie critiche per le famiglie che sono in situazioni disagevoli e dove vediamo una replica una replica dell'assessore brunori per quanto riguarda la denuncia che ieri ha fatto fratelli d'italia sulla situazione critica dei passeggi dove vige un certo degrado degrado che è stato sottolineato da loretta manocchi segretaria appunto del partito di opposizione passeggi presto via le buche la riqualificazione secondo l'assessore brunori dopo le forti proteste sul degrado arrivano le rassicurazioni diventeranno una piattaforma educativa secondo il progetto elaborato dall'amministrazione comunale incaricheremo professionista ha detto la brunori perché renda realizzabili le proposte dei bambini vorremmo che i passeggi diventano anche una piattaforma educativa di incontro tra diverse generazioni quindi non solo bambini ma anche anche adulti e anziani soprattutto abbiamo imprenditori disponibili a finanziare il progetto questo è importante ci sono i soldi in attesa che il parco sognato dai bambini prenda forma l'assessore brunori risponde alle accuse di fratelli d'italia e poi sono tutte le repliche per quanto riguarda la polizia per quanto riguarda la copertura del viale con la ghiaia insomma il decoro delle piante e via dicendo ed ora andiamo a mondolfo a mondolfo si si appresta ad una delle bellissime iniziative di carattere storico che attireranno senz'altro tantissima gente è la spaghettata la spaghettata di mondolfo animerà il centro storico stand e tante altre specialità culinarie a fare da contorno dunque la macchina organizzativa per preparare questa bella festa è a pieno regime si tratta pensate della 75esima edizione la kermes che coinvolge sul piano organizzativo l'avis l'onfalos l'onfalos autismo poi abbiamo i bikers e altre e altre associazioni non manca nemmeno la croce rossa la protezione civile ebbene quest'anno si unirà la tradizione gastronomica degli spaghetti con il sugo di tonno quindi molto appetitosi con una serie di proposte sportive al fine di supportare iniziative locali di solidarietà quindi l'incasso che si otterrà per queste iniziative verrà devoluto al sostegno di queste associazioni e quindi si unisce una festa con un fine benefico bella questo questo binomio ormai è psicosi da maniaco un falso a lucrezia ecco qua l'articolo che evidenzia ancora come ci siano falsi allarme per l'identificazione del maniaco che si denuda di fronte ai bambini che è stato visto oppure creduto visto in diversi punti del nostro entroterra ormai è psicosi da maniaco un falso allarme anche a lucrezia un audio rimbalzato sui social ha suscitato clamore e si è rivelato fasullo l'appello del sindaco di cartoceto enrico rossi invito a non diffondere fatti infondati ricordiamolo l'ho ricordato ieri lo ricordo ancora oggi diffondere fatti infondati vuol dire coprire di vergogna magari una persona che è del tutto innocente e questo nonostante che poi verrà riconosciuto innocente come è accaduto in tante altre occasioni sopporterà questo marchio per tutta la vita quindi veramente bisogna stare molto molto attenti bisogna essere molto molto certi che quando si fa un'accusa questa accusa sia veritiera perché la diffamazione è un marchio che è difficile poi a cancellarsi a togliersi ed ora giriamo ancora la pagina e vediamo che si parla ancora del treno che da Germania e dall'Austria dovrebbe portare turisti anche nelle nostre coste in realtà si ferma soltanto a Pesaro e Ancona ci sono però due fermate in gioco per cui sono in ballo anche Pesaro e anche Fano e Marotta però insomma sembra che queste due località non abbiano tante chance per queste fermate l'appello dunque di Mancini Samuele Mancini segretario del PD di Mondolfo e Marotta il night jet così si chiama appunto il treno non lasci in ginocchio Marotta e questo l'appello che rivolge appunto il segretario nei confronti anche dell'amministrazione comunale che deve sensibilizzare la regione perché ci siano trattative in questo senso tra i marottesi c'è il forte timore che poiché la regione si è limitata a chiedere solo due fermate in più senza indicare quali alla fine a rimetterci e a rimanere in ginocchio sarà proprio Marotta che difficilmente potrà essere scelta a discapito di Fano e Senigallia Fano e Senigallia hanno ovviamente delle chance in più rispetto a Marotta ecco perché insomma Mancini cerca di portare la decisione verso la sua località e quindi siamo veramente alla vigilia della stagione turistica. Vigilia che con l'arrivo di Pasqua si fa ancora più concreta perché in queste festività i turisti insomma fanno delle piccole escursioni anche per verificare le località dove poi d'estate trascorreranno le loro vacanze. Tutto pieno per Pasqua tra turisti e scolareschi a Urbino. Carla Rossi di Confesercenti dice quest'anno è tornata la stagione anche per i gruppi cecchini di Confcommercio. Grandi sono le aspettative. Mancano solo due settimane a Pasqua e dal punto di vista turistico questo periodo è un po' il banco di prova per quello che si prospetta poi l'alta stagione quella di luglio, di agosto. Beh le prospettive sono buone, la siccità se da un aspetto crea dei problemi dall'altro invece il tempo buono crea delle grandi aspettative di carattere turistico ci vorrebbe un incerto equilibrio ma comunque insomma il tempo buono facilita l'arrivo dei nostri turisti. Lunedì il comune di Urbino presenterà le iniziative in programma e intanto chi rappresenta le associazioni di categoria si dice fiducioso. Carla Rossi guida turistica della Confesercenti dice già adesso siamo presi d'assalto dalle gite scolastiche, prevediamo per il ponte di Pasqua una forte affluenza in città. Chi sento tra strutture ricettive, bed and breakfast e casali sono già tutti pieni. Da febbraio ogni anno le scuole si riattivano e poi comincia la ressa per la richiesta appunto di turisti. Questo per quanto riguarda Urbino. Invece a Carpegna c'è stata una intitolazione significativa, il valico sarà denominato Passo Pantani, cerimonia oggi pomeriggio prevista con la famiglia dell'indimenticabile campione per sigillare un legame antico e molte volte Pantani ha valicato questo passo a Carpegna e quindi è giusto che il suo nome venga ricordato. A Cantiano il periodo di Pasqua è importante, importante per via dell'attività delle confraternite ma anche per la turba. Cantiano le cinque confraternite religiose in vista della Pasqua convegno domani sulla loro origine e funzione legate al territorio. Un appuntamento domani pomeriggio per il convegno sull'origine delle confraternite, un aspetto storico molto importante e molto interessante dal punto di vista anche delle curiosità. Ci sarà la partecipazione di tanti residenti rimasti legati a queste antiche aggregazioni religiose e inedito per tutte le confraternite sarà anche la partecipazione delle cinque confraternite cagliesi alla processione storica di Cantiano in programma sabato 1 aprile alle ore 21.30 per suggellare la solidarietà che si è creata durante l'alluvione, durante questo evento drammatico che ha colpito il nostro entroterra. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico. Abbiamo visto l'apertura sulla pagina di Fano dedicato all'approvazione del Regolamento del Verde. Anche il Corriere parla della strage di alberi, strage così la definisce lupus in favola, prevista per l'arredo di Viale Battisti. Ed ora invece diamo un'occhiata ad un articolo oggetto di una conferenza stampa che si è svolta ieri alla Mediateca Montanari per quanto riguarda una iniziativa di carattere solidale. Accompagnamento da 0 a 6 anni, un doppio sportello per i genitori. Fare i genitori non è sempre facile. Qualche volta occorre anche un consiglio in più, una guida. E bisogna che una guida sia una guida esperta, una guida professionale. Ebbene l'amministrazione comunale, insieme al labirinto, ha realizzato due importanti iniziative. Il nome c'era una volta, si rievoca un po' le favole dei bambini. Ma sono favole queste importanti e non per i bambini, ma sono soprattutto per i genitori. Il primo caso sarà gestito da Jessica Omizzolo, coordinatrice dei servizi educativi. Consisterà in incontri con i genitori che ne faranno richiesta, organizzati un paio di volte alla settimana presso asili e scuole. I genitori che possono esporre i loro problemi e vogliono i loro consigli per educare i figli, per fargli crescere nel modo dovuto. Il secondo punto è un punto d'ascolto che sarà affidato alla psicologa Ilenia Di Giampietro e intende garantire, dietro prenotazione, un sostegno ancora più mirato all'esperienza di un genitore, intercettandone le esigenze e i problemi. Quindi ancora una cosa più specifica, più individualizzata. Ebbene, sono iniziative queste che poi si associano ad un corso post-parto che si terrà al memo a partire dal 30 marzo e fino al 4 maggio. Una volta che si è avuto un bambino, magari per una puerpera, per una donna, occorrono anche dei consigli per sostenere questo momento, che è un momento molto molto bello, ma è anche un momento che può avere delle criticità. Quindi avere un aiuto è importante. Giriamo la pagina e siamo a Fossombrone. A Fossombrone si parla di sanità. Rilancieremo i dieci punti nell'incontro con Salta Martini. Lo annuncia l'ingegnere Marco Bartoli, che appunto prevede un prossimo incontro a Fossombrone sul piano regionale. Ci sarà anche l'assessore regionale alla sanità. Si aprirà nel volgere di qualche settimana questo incontro che verterà sull'ospedale di Fossombrone. quali saranno i compiti, quali saranno le risorse e quali saranno appunto i servizi che erogherà la struttura. Ho richiesto ufficialmente all'assessore Salta Martini, ha detto Bartoli, un incontro dedicato per avere riscontri urgenti in merito ai dieci punti sull'ospedale di Fossombrone approvati all'unanimità dal Consiglio Comunale monotematico che si è svolto nei giorni scorsi. Il Presidente della Commissione Speciale insiste dunque sulla emergenza, urgenza e soprattutto sulla lungodegenza, emergenza, urgenza per far sì che quando una persona si senta veramente male e in pericolo di vita non debba percorrere poi 50-60 km per trovare una struttura che lo possa curare ma abbia subito un intervento pronto lì all'istante, a poca distanza per salvargli la vita. Questo è importante. E poi in questo articolo si parla anche delle liste d'attesa, uno dei problemi principali del nostro sistema sanitario. Liste di attesa, prima riunione dell'osservatorio. Ne parla il commissario dell'azienda sanitaria territoriale della nostra provincia, Gilberto Gentili, quella che ha incamerato l'azienda ospedaliera Marche Nord. Un risultato, ha detto Gentili, è già stato ottenuto con l'attivazione delle liste di prese in carico. Che cosa consiste questa prese in carico? Il paziente che ha contattato il Centro Unico di Prenotazione e si è recato agli sportelli di prenotazione e non ha trovato la visita o l'esame che aveva richiesto, il quale include alcune prestazioni critiche per la salute dei cittadini, può essere preso in carico con la proposta di un appuntamento che gli viene poi dato direttamente dalla fonte a livello provinciale. Insomma, se uno fa la sua iniziativa e non trova risposta, sarà poi l'organizzazione che lo ricontatterà e quindi gli fornirà il servizio richiesto e questo dunque è già un successo. A Cantiano, a Cantiano ristori per il 17% dei danni dell'alluvione. Non è molto, ma è già qualcosa, però c'è un problema, un problema grosso. Ebbene, per ricevere questi fondi c'è tutto un sistema burocratico, molto farraginoso, che crea problemi, crea lungaggini e crea difficoltà. Il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, chiede più personale per le incombenze dei pagamenti. Adesso i soldi ci sono, però poi erogarli concretamente è difficile perché tocca fare un sacco di operazioni e questo ovviamente non depone per l'efficienza della pubblica amministrazione. E poi diamo un'occhiata a questa fotografia. Sono i borsellini delle sirene. Sembrano veramente delle cose un po' disgustose, devo dire, delle cose un po' macabre, un po' brutte, insomma. Però in realtà sono delle, come può definirle, sono degli oggetti che crea la natura per così vedere come l'evoluzione delle specie marina hanno tante, tante possibilità e tante meraviglie. Che cosa sono questi borsellini delle sirene? Sono dei contenitori di uova di pesce. Se ne trovano, non molto frequentemente, nelle spiagge lungo il nostro litorale. In questo caso è stata trovata a Marotta. Si tratta di borsellini che ospitano un uovo fertilizzato di pesce. hanno anche questi uncini, i quattro uncini, per potersi aggrappare nei fondali marini. Ebbene, sono delle curiosità che all'inizio fanno un po' di raccapriccio, però in realtà sono delle cose che la natura crea per l'evoluzione marina. E sono veramente molto, molto belle. A Senigallia l'albergo non si farà alle ex colonie Enel. Salta il polo turistico. Sono 90 appartamenti, non sono pochi. L'opposizione va all'attacco. Un complesso prevalentemente residenziale. Una visione politica imbarazzante. Salta dunque l'albergo alle ex colonie Enel. Addio al polo turistico con le residenze che triplicano e rispuntano pure i mini appartamenti vietati dal PRG. C'è stata polemica su questo in commissione urbanistica, dove l'opposizione ha denunciato la speculazione edilizia della variante approvata dalla Giunta in cambio di una strada e un parcheggio. L'assessore Cameruccio si vergogni, tuona l'opposizione, è stato provato un atto con 90 appartamenti al posto di 30. E qui ci sono veramente dei forti contrasti tra maggioranza e opposizione. Ed ora diamo un'occhiata anche a una pagina regionale dove si parla del processo che si sta svolgendo in Ancona per quanto riguarda la Lanterna Azzurra di Corinaldo. Sono stati ascoltati sia Fedes che Sfera e Basta. Fedes, locale strapieno, inevitabile con quel DJ set, Sfera, Spray altre volte. Sono stralci delle dichiarazioni dei due DJ. Ma è importante quello che ha detto Fedes. Ho portato un esempio, ha detto il cantante, un esempio dettato dalla mera logica. Se vendo il DJ set a 20-30 mila euro a un locale con una capienza di circa 500 persone che sta gestendo la data, è consapevole che il proprietario del locale deve riempirlo a tappo per rientrare nei costi. Quindi tutto questo si sapeva. Si sapeva e invece è stato ignorato. E con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 7 del mattino. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie per l'ascolto e a risentirci.